è luigi strangis il vincitore di amici 2021-2022 il simpatico nonché magnifico cantante della messia termine va a battere al televoto il vincitore del circuito michele esposito vincitore del circuito lanza nell'ultima puntata di ieri proprio del talent show di maria dei filippi che vi ricordo è andato in onda in diretta ha visto il terzo gradino quindi lega di broso la bella ballerina serena invece per quanto riguarda il premio della critica va dritto dritto tutto nelle mani di sisse al secondo posto chi arriva quindi medalli d'argento ben arriva michele al secondo posto secondo il massicato Luigi fa invece il piano di vittorie e si è giudicato infatti il circuito tanto amici 2021-2022 si prende proprio anche addirittura il premio radio molti hanno già e di diritto hanno già stabilito che i premi che Luigi si prende si va a prendere sono premi strameritari azzardo dire meritatissimo e io mi associo mi accordo a tale diceria o meglio a tale situazione dicendosi l'ha perso come costruito da narratore italiano di youtube italia è tutto iscrivetevi se vi va a commentare ciao a tutti e una buona giornata ciao 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 ciao